ciao a tutti oggi abbiamo fatto le uova frizzanti con sorpresa di Bing abbiamo fatto queste bellissime uova che frizzano nell'acqua e dentro ogni uovo ci sarà una bellissima sorpresa non si sa una sorpresa di Bing comunque può essere un personaggio qualche amico di Bing vediamo l'unico modo per scoprirlo sai qual è dobbiamo buttarle tutte nell'acqua andiamo grazie a tutti 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 grazie a tutti